Questa sera invece si rifarà la disinfestazione come preannunciato oppure no? No, dopo le due serate di disinfestazione, quindi quella tra sabato e domenica e tra domenica e lunedì, oggi a mezzogiorno e mezza in fase di cocca abbiamo deciso di rinviare a data da destinare, presumibilmente la prossima sarà tra domenica e lunedì prossimo, perché in questi giorni è prevista forte pioggia, quindi già da questa notte è prevista pioggia, quindi non ha senso fare la disinfestazione, quindi in accordo con tutti gli enti abbiamo deciso di rinviarla. Quindi daremo informazioni alla cittadinanza nei prossimi giorni, invece nei parchi pubblici è stata effettuata? Allora, nei parchi pubblici come in tutte le vie pubbliche è stata effettuata la disinfestazione, è chiaro che quando ci siamo visti con tutte le ditte gli abbiamo chiesto di non irrorare la sostanza, la disinfestazione sopra i giochi per i bambini, quindi l'abbiamo voluti escludere come misura precauzionale, è chiaro che non succede niente, però è me e abbiamo preferito evitare, mentre su tutti i parchi pubblici e quindi anche le zone antistanti assolutamente sì, come abbiamo rifatto la disinfestazione nelle scuole, nei cimiteri, cosa che avevamo tra l'altro già fatto nelle settimane scorse. Daniel Green Power invece avete delle informazioni, degli aggiornamenti, visto che di competenza loro effettuarla lungo il canale Albani? Sì, questa mattina ci siamo visti, già c'era stata la disponibilità da parte di Enel a fare la disinfestazione, basta un avviso di qualche giorno prima, quindi previsibilmente tra domenica e lunedì prossimo, quindi quando ripartiremo in quella notte, anche Daniel Green Power effettuerà la disinfestazione all'interno del canale. Ma di fatto già con la disinfestazione che abbiamo fatto come comune, siccome ci sono due vie importanti come via Papiria e la via della superstrada, noi già abbiamo fatto la disinfestazione lungo tutto il canale Albani, parte esterna ma di fatto è andata a finire anche internamente. Dopo le piogge di questi giorni sarà necessario invece che Enel provveda nella parte interna di sua competenza. Facciamo chiarezza anche per gli animali, possono rimanere all'aperto? Allora gli animali possono naturalmente girare all'aperto nei parchi, non c'è nessun tipo di problema, abbiamo interpellato anche l'istituto zooprofilattico con la quale c'è un'ottima collaborazione, non c'è nessun rischio per nessun tipo di animale, è chiaro che quando avviene la disinfestazione sarebbe più opportuno metterli dentro casa. Se invece questo non è possibile non c'è nessun tipo di problema perché si riparano all'interno delle cucce. Sindaco, viste le condizioni meteo avverse, i cittadini che cosa possono fare? Possono darci una grande mano, anche perché il 30% si sviluppa nella Repubblica, ma al 70% nelle aree private, quindi è fondamentale la collaborazione dei cittadini quando smetterà di piovere, nei prossimi giorni, di svuotare tutti i vasi, tutti i vari contenitori con acqua e tagliare la vegetazione all'interno del proprio perimetro di casa perché dove c'è una vegetazione importante, alta, è molto più facile che le zanzare prolificano. Grazie. Grazie.